Continua ad allargarsi l'inchiesta sull'uso distorto dei fondi rientranti nel programma Copes di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che nelle scorse settimane aveva portato il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Potenza a segnalare alla Procura regionale della Corte dei Conti un danno erariale da circa 10,5 milioni di euro. Sono 100 i soggetti tra amministratori e dirigenti comunali segnalati alla magistratura contabile, ma il numero degli indagati potrebbe aumentare ulteriormente. Gli accertamenti delle fiamme gialle su delega della Procura contabile, infatti, vanno avanti. Le indagini delle fiamme gialle hanno portato alla luce un quadro complessivo di evidente pregiudizio economico derivante da varie irregolarità poste in essere dai parti degli enti locali interessati nella gestione del programma. Irregolarità riscontrate in 82 dei 97 comuni interessati dagli accertamenti. In 75 di questi, i beneficiari del progetto sono risultati essere inoperosi totalmente, ovvero in periodi di sospensione del programma, seppur costantemente destinatari, del beneficio economico, mentre per i restanti sette comuni si è registrata l'esternalizzazione di servizi, che, secondo la linea guida regionali, avrebbero potuto essere svolti dai cittadini rientranti nel programma, i quali, invece, venivano retribuiti senza essere inseriti in attività formative o lavorative. Nel mirino, le attestazioni prodotte dai comuni, ovvero la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione del sussidio da parte della Regione, a favore dei soggetti rientranti nel programma COPES, documenti che, in più occasioni, alla luce di quanto emerso fino a questo momento, avrebbero certificato falsamente attività formative e lavorative in realtà non eseguite dai beneficiari.